E' necessaria una maggiore e migliore integrazione tra ospedali e territorio per la gestione dell'emergenza sanitaria. Non lo dice, ma lo fa intendere il direttore sanitario dell'Umberto I, Maurizio D'Ambrosio, che sollecita una presa di coscienza di chi a livello territoriale si occupa di 118 e guardia medica. I 6.000 accessi mensili al pronto soccorso a Nocerino, dati forniti dal primario Antonio Inac, di cui è appena 300 in ambulanza, la dicono tutta. In molti casi è inutile arrivare al pronto soccorso, serve solo ad ingrossare le file e rallentare il lavoro. Se si chiamasse il 118, ci si recasse alla guardia medica, per gli utenti e per l'organizzazione sanitaria ci sarebbero solo giovamenti. Ci si scontra però con una consuetudine difficile da scardinare, arrivare con la propria auto in ospedale, un problema culturale. Occorrerebbe dunque una maggiore sensibilizzazione dei cittadini, anche questo però passa dal territorio. Ci deve essere un'integrazione tra il territorio e l'attività ospedaliera, in premissa per il pronto soccorso. Solo così noi possiamo avere una scrematura di quello che in effetti arriva nella nostra struttura, ma cosa maggiore è importante, è quella di un'appropriatezza dell'utilizzo della struttura ospedaliera. Solo così si può garantire una prestazione di qualità, non dico di eccellenza, ma di qualità da parte degli operatori, sia medici che infermieri, che sono gravati da un carico di lavoro che molte volte non riesce a fronteggiare questa richiesta che viene dal territorio. Fortunatamente un sospiro di sollievo dovrebbe essere tirato da maggio, quando entrerà in funzione il nuovo triage, non più un semplice front office, ma una sorta di mix zone dove fare una prima valutazione clinica del paziente e poi assegnargli il codice d'urgenza, spiegando che in caso di livello verde o bianco si potrà attendere fino a 6 ore.